Non ce l'ha fatta nemmeno il piccolo Divine un anno e sette mesi spinto giù dalle scale nella sezione nido del penitenziario di Re Bibbia. Già da alcune ore in corso per lui la procedura di accertamento di morte cerebrale. La procura ha lanciato un appello pubblico per rintracciare il padre del piccolo affinché consenta l'espianto degli organi per la donazione. La sorella di Divine, Faith, di appena sei mesi, era morta ieri sul colpo e la madre in stato di arresto nel reparto psichiatrico protetto dell'ospedale Pertini, così dovrà ora rispondere di duplice omicidio. Una tragedia umana che non ammette conclusioni affrettate superficiali. Oggi i vertici della sezione nido Re Bibbia, direttrice e vice direttrice, sono stati sospesi dal guardasigilli. E le indagini, come giusto che sia, andranno avanti, ma forse più che una caccia al colpevole, il dramma ripropone la fragile condizione dei neonati figli di carcerate. Questi numeri in Italia, 60 minori, 52 madri, 27 italiane, 25 straniere, 13 a Re Bibbia con 14 figli. La legge consente alle madri detenute di tenerli con loro ma fino a tre anni. Poi i bimbi devono uscire, ma sono solo 5 le strutture femminili attrezzate, mentre nel Lazio manca un istituto a custodia alternativa, i cosiddetti ICAM, solo altre 5 in tutta Italia. E a Roma soltanto una struttura protetta, la casa di Leda, per chi ha i domiciliari. A lasciare interdetti anche il luogo dove è avvenuta la vicenda, il nido di Re Bibbia, di cui vedete le immagini, attrezzato con ampi spazi, giardini, ludoteca, pilota nelle sperimentazioni settimanali per mantenere il rapporto col territorio, proprio per impedire ai fantasmi di chi vive dietro le sbarre di prendere il sopravvento. Adesso i miei figli sono liberi, ha detto la donna. Parole che riaccendono l'interrogativo su cosa sia scattato nel cuore di questa madre. Ma forse sarebbe più utile spostare la domanda su cosa le sia mancato.